Sono l'acchiere d'acciaio, in questo caso questa conteneva l'acquarangia, quindi se hai peculatori con pochissime mani dal 70.000 e anche le pitture. Quest'altra invece non conteneva niente perché non era regalata lui ed è marchiata come vedete, è una coppia del padre. E qual è la loro peculiaità? Che è riempita con quattro progetti, per esempio se si rompono i braccialetti, come si può raccogliere, il visore ne abbiamo tanti, a meno di uno, per esempio, perché mi sono ancora visti, però guardate, ho qualche braccialetto, faccio la connessione sul braccio. Quando si rompono invece i puntati, io vi conservo queste berline e potrei fare anche un altro braccialetto, però siccome faccio un piccino e non faccio dire le ragioni di dire, li metto dentro i parattoli e si crea un suono. Con questo suono si costruisce uno strumento che si chiama shaker, in questo caso si crea uno shaker anche perché sono delle latte, che se non vado a comprare costa 15, 20 euro, 10 euro, invece così non costa proprio niente, nessuno aveva le quadre, è sicuro che è un quadre, quindi potete farlo senza spendere su, ve lo vi faccio dire come su. Grazie a tutti. A. A. e adesso faccio il titolo di Nazionale parla dell'Africa e la mamma di tutti i quanti i tuoi che abbiamo con un po' dell'essere umano che ha dappato e quindi di rispetto a te e a te e a te e veramente di rispetto a te e di santo che la musica porta la sensazione di mezzo a modo di tutto il mondo di mezzo e la popolazione e la pianta è un po' di pianta 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 oh mamma mia mamma mia oh mamma mia mamma mia oh mamma mia oh mamma mia Johnson oh mamma mia mamma mia mi altri anni che dietro Grazie a tutti.